Quando sei così preso dal lavoro? Quando sei troppo occupato a finire la tua serie tv preferita? Quando l'allenamento viene prima di tutto? Quando la tangenziale è bloccata? Quando è così? C'è Cosicomodo.it Il tuo supermercato online. Vai su Cosicomodo.it Cerca il famila più vicino a te e scegli i prodotti delle tue marche preferite. Puoi ricevere la spesa a casa o ritirarla direttamente in negozio. Quando non c'è tempo C'è Cosicomodo.it Mettici alla prova. La consegna a domicilio è gratis fino al 28 febbraio. Cosicomodo.it La spesa fatta in casa.